La consegna viene fatta solo a domicilio, questo è il primo passo, come sta andando questo servizio? Diciamo che limitiamo i danni e ci consente di dare un servizio ai nostri clienti di fargli avere il gelato a casa, quindi solo a domicilio fino al 4, dal 4 di maggio potremo anche fare l'asporto, però sempre previo appuntamento, cioè la gente lo deve prenotare e poi può ritirarlo qui da noi. Questo è un buon sostentamento all'azienda, anche se il lavoro non è al 100%, però già aiuta qualcosa? È un primo passo, purtroppo però abbiamo delle prescrizioni sanitarie, degli adempimenti che ancora non sono ben chiari, perché le linee guida non sono state diffuse dalle autorità competenti, quindi dobbiamo capire cosa fare per rispettare i principi, i protocolli del coronavirus. Qualcosa già ci hanno detto, ma va fatta una sanificazione, vanno mantenute le distanze e deve essere fatta chiarezza in questo senso, perché altrimenti rischiamo di avere problemi già all'apertura al pubblico. Con la sua clientela com'è il cambiamento? Si stanno adeguando la clientela? La clientela si sta adeguando, la cosa bellissima è l'affetto che i nostri clienti dimostrano nei nostri confronti, perché il gelato alla fine è un momento di gioia, è un momento di allegria, di convivialità, quindi abbiamo avuto questa risposta da parte dei clienti che ci gratifica al di là di ogni discorso economico. Lei è positivo? Ne usciremo fuori? Noi siamo sempre positivi, gli imprenditori devono essere positivi, però purtroppo c'è un clima di abbandono totale, la categoria della ristorazione in genere è stata abbandonata letteralmente, siamo lasciati soli a noi stessi, ci diamo da fare, cerchiamo di fare squadra, però lo Stato ci deve dare una mano, perché altrimenti entro giugno, luglio tutto il settore sarà morto.